Dalla rivista Famiglia Domani, edizioni Gazzetta d'Asti, i racconti fantastici, le storie di Pipero. Pipero era un giovane papero illuminato uno strano giorno da una visione. Passando involontariamente davanti a uno specchio, vide la sua immagine riflessa dentro al vetro e, rimanendo sbalordito, osservò un curiosito quello strano papero molto simile a lui e con le sue stesse sembianze. Diventarono subito amici, ma così amici che quando lui sorrideva, nello stesso istante anche l'altro papero sorrideva, e tutte le sere quando Pipero andava a lavarsi il becco, sostava un attimo davanti allo specchio. Per rafforzare questa amicizia, gli raccontava una dolce fiaba e, pensate un po', anche il suo amico con il becco giallo la ripeteva nello stesso momento. Ogni sera Pipero proponeva una storia nuova e il papero non lo specchio, col movimento del becco, gliela ripeteva. Durò per dodici lunghi giorni. Il tredicesimo giorno, umido, turbolento, freddo, con scrosci di pioggia seguiti da lampi, tuoni, lo specchio, anche se chiuso nella stanza, si appannò di umidità, senza più far risaltare il riflesso di qualsiasi immagine, anche quella di Pipero. Pipero, come tutte le sere, si avvicinò allo specchio e non vedendo più il riflesso del suo grande amico, muto lì, era tristato, camminando lentamente, pensò tra le lacrime. Se n'è andato. Lo trovarono silenzioso, con gli occhi ancora umidi, un angolino all'ombra del pollaio, proprio dove prima inventava fiabe. Teneva gli occhi chiusi senza pensare a nulla e contava le pecore per potersi addormentare. Doveva essere un'amicizia infinita, ma siccome era finita, si cercò un gioco da fare da solo. Fu così che si mise a giocare a dadi, ovvero si mise a fare le somme dei numeri che uscivano dai dadi rotolanti, ad ogni numero ricordava una fiaba, proprio una di quelle che piacevano al paperotto scomparso. E più ti ravi dadi, più raccontava. E più raccontava, più ricordava. E più ricordava, più le storie diventavano tante. In un giorno di primavera, i proprietari della cascina decisero di cambiare arredamento. E non sapendo dove mettere i mobili vecchi, li misero nella stalla vicino alla mangiatoia ormai non più in uso, proprio dove Pipero si era fatto il suo dolce giaciglio. E posarono lì anche lo specchio. Lo stesso pomeriggio, tornando starnazzante e stanco di dover inseguire le mosche, si rivide riflesso, o meglio, riapparve il suo amico papero. La gioia fu talmente tanta da non riuscire a trattenere un forte qua, 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 è tornato! E tutti gli animali della stalla andarono a vedere incuriositi il perché di questa gioiosa esternazione. E tutti i riflessi dentro allo specchio incominciarono a raccontarsi storie. Pipero raccolse tutte le storie infinite per formare un libro magico, il libro dei racconti allo specchio. Ed allora, ogni volta che si apre il libro, le tante storielle unite alle canzoni magiche fanno sì che in qualche parte del mondo qualcosa di bello possa capitare. Perché questo è un libro magico! ... ... Grazie a tutti.